Buongiorno a tutti gli amici di Occhio Pavese, oggi per tutti gli amanti e gli appassionati di musica e di spettacolo viene inaugurato un grande nuovo punto di riferimento ovvero Stralu Music siamo in Corso Rosselli 141 e stiamo per andare a scoprire quello che sta succedendo nell'inaugurazione, benvenuti e siamo in compagnia del padrone di casa Aldo buongiorno buongiorno ciao allora questa inaugurazione di Stralu Music finalmente a Voghera come lo stai vivendo? un giorno più bello, divertente, c'è tanta gente, siamo contenti, ringraziamo tutti quelli che sono venuti, ringraziamo voi ci aspettiamo tutti i giorni domani, domani sera, sabato sera e poi con orario normale, negozio tutti i giorni aperto che cosa c'è, che cosa si può trovare da Stralu Music adesso e anche nelle prossime settimane? vediamo il reparto audio quindi con vari marchi di casse tra cui Turebo Sound di cui siamo Centro, Yamaha, Proel, RCF quindi tutti i marchi più famosi di casse, mixer là in fondo anche se sono un po' nascosti chitarre, quelle che vedete più qualunque materiale in ordinazione che vogliamo a breve sarà finito il reparto batteria là in fondo e da giugno sarà la sala prove con uno studio di registrazione terminato questo vuol dire che comunque tutte le persone, i musicisti, i cantanti che vorranno provare, sperimentare, fare prove lo potranno fare proprio qua esatto, potranno fare il nostro studio sia come prove che come registrazione incidere proprio il loro album, il loro singolo o la loro demo per poter uscire e poi andare nei locali a presentarsi Senti raccontaci un pochino come mai questa vicinanza così forte con il mondo della musica so che arriva in realtà da una generazione precedente forse Nino, io era proprio nella generazione precedente, ma più o meno sì perché in realtà mio padre suonava io suonavo, il suono tuttora, tastiera, pianoforte e da quello che una volta lavorato ho deciso di accogliere e di provare con questo mondo che a me piace io sono appassionato di audio e di luci più che di quello che vediamo chitarre che può essere il mondo della musica generico infatti questo è il reparto su cui stiamo filmando ecco I never lost a one with a love love you I'm calling I love with you I keep on falling in and out of love with you I never lost a one in and out and out and out E allora, grazie mille e in bocca al lupo ovviamente per questa nuova avventura con Stralo Music Grazie a voi, alla prossima, ciao